Ok, Marci, possiamo iniziare questa sfida. Tu cosa hai trovato? Non mi sembra proprio il leggendario che vi hai promesso. Anzi, due Pokémon belli scarsi, ma... Vabbè, eh... Campioncini, oh... Eccolo qua l'altro. Ma basta! Allora, ragazzi, io sempre pensavo che Marci cittasse. Ma scrivetelo questo nei commenti con l'hashtag Sono un campione per essere salutati. Secondo te Marci citta? Eh? Non citto. Ma pare che non hanno neanche i poteri, penso. Ma stai volando. Cosa stai dicendo? Ti dico una cosa, se è possibile. Eh, sì, dai. Se trovi Dialga... Eh? Non prenderlo. Perché? Così lo tengo io. No, no, no. E tu mi dici un Pokémon che non vuoi che io catturi. Allora, campioncini, questa è la regola che Madame Marci ho sperato per questo episodio della Pixemon Lucky Block della corsa. Innanzitutto mi hai rubato Cobalion, questa roba come fa arrabbiare tantissimo. Ma comunque, in fondo, quando costruiamo la nostra... Cioè, io non ho ancora trovato il leggendario, tu ti sei fatto già una squadra, eh? Cioè, ci rendiamo conto? Dicevo, alla fine... Basta! No, ragazzi, no? Incredibile questa cosa. Cosa ridi? Vabbè, allora, fatemi spiegare questa situazione prima che marciano un altro leggendario. Dovremmo costruire una squadra di Pokémon leggendari. L'unica cosa è che non dovremmo... Basta, te lo pretevo Rubo perché non è possibile. Bah, grazie per questo Moltres. Non lo so chi l'ha preso, però... Eh, quanti leggendari hai? Scusa, fammi capire. E non ho più già spazio, quindi non so. Allora, cambia, cambiamo corsia. Secondo me era questa corsia qua. Vai, vai dire, allora. Dicevo, non dovremmo avere Pokémon in comune, leggendari. Ma, visto di sto passo, io non ho neanche un leggendario Wailord! Spostati! Ah, no, è incredibile. Effettivamente non ne sto trovando più. Eh, chissà come mai. Agis Rush sembrava quasi lunare inizialmente, ma ovviamente Pokémon leggendari ce li sogniamo. Ma io... Non ho Pokémon leggendari! Non ce ne ho neanche uno! Ma come, zero proprio? Ma la marci zero! Zero, te lo giuro su quello che vuoi! Eh, non ho neanche... Il massimo, ai prossimi quattro ne trovo uno. Uno, due, tre, quattro! Oh mio Dio, Regis, si la è 40! Dopo diventerà 70, eh, ti avviso, perché questa azione qua è veramente ridicola. Però, per ora non abbiamo trovato ancora nessun Pokémon in comune. Quale? Era Hyperior. Oh, Shymin! Non credo, però tu hai trovato un altro Shymin, benissimo. Mi date un altro Pokémon leggendario. Ma io sono costato a prendere torterra, ragazzi, a questo punto. Cioè, non è... Cobalion, vabbè, me lo prendo. Vabbè, tanto dopo diventerà il 70. Però... Andando troppo veloce, piano, con calma. Allora, facciamo con calma, va bene. Cambiamo ancora Corsia, perché non è servito a nulla questo cambio. Anzi, io ho trovato due Pokémon imbarazzanti. Quindi, eh... Vediamo se magari in questo ricambio di Corsia possiamo trovare qualcosa. Golurk. Upa. No, io te lo rubo. No! Oh, mannaggia. Mannaggia, 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 mannaggia. Io sono sull'Axorus. Oh, Azelf. Mamma mia, ragazzi, che Pokémon leggendari. Non esiste che li porti al 70. No, no, no. Tutti i leggendari verranno portati al 70 per la battaglia. Ma guardatevo. Perché qua la situazione è veramente pericolo. Vuoi un Terracchio, no? Beh, mi prenderò anche Terracchio. Anche devo fare. Cioè, eh... Sto prendendo gli scarti di Marce alcune volte, perché la situazione è abbastanza ridicola. Però... Nei prossimi tre mi uscirà un Mewtwo. No, no, Marcello, se succede... Io smetto qua di registrare. Uno, due... Beh, meno male, meno male. C'è andata... C'è andata bene, se così la possiamo definire. Però, comunque, possiamo proseguire ad andare avanti con calma. Feraligator. Non riesce praticamente mai a Mewtwo. È molto raro. Beh, è ovvio. Comunque uno dei Pokémon leggendari più forti che ci sia. E vabbè. Eh, ragazzi. Alla fine, questa è la fortuna e la sfortuna dei Lucky Block. Ci sono 400 milioni di Pokémon che possono spawnare. E non è per forza detto che debbano spawnare Legendarch. Eccolo qui. Oh, oh, due leggendari in affianco all'altro. Come c'è qualcosa, tu? Un tool in mano? Ti dà la... Aspetta, facciamo una roba. Marce li apre con le Park Ball. Vediamo se è questo oggetto che porta fortuna. Oh, magari, ragazzi. Abbiamo scoperto il cheat di Marce. Hai catturato Necrozma. Ce l'avevo anch'io. No, no, ce l'ho. You captured Necrozma. Oh! Eh, ma devi cancellarlo. Godo! No, no, no. No, no, no. E ce l'ho anch'io, Necrozma. Eh, fai niente. Io dopo lo metterò in squadra. Sei tu che non devi metterlo. C'è cento Pokémon e devi mettere Necrozma. Cioè, non lo so. Vediamo. Vai, proseguiamo con le prossime catture. Non lo so. Ma un Rayquaza pazzo. Io l'ho trovato. Mi fai un attimo un recap di quello che hai trovato. Vai nel computer un attimino, Marci. Allora, PC. Perché qua la situazione è ridicola. Io di mio ho Xerneas, Necrozma e Rayquaza salvabili. Il resto è un disastro, eh. Galga, Dusknoir, Cobalion, Necrozma, Landorus, Moltres, Rhyperio, Rhyperio non c'entra niente, Shymin, Upa, O e Celebi. Però mi mancano due. Avrai una roba come 20 Pokémon leggendari avrai. Cioè, io trovo solo Team Rocket. Infatti manca Necrozma. Necrozma non me l'ha dato. Vabbè, prendi da questo punto. Non so che dirti. Guarda, io sto trovando questo Pokémon al 25. Non lo so. Peggio di così. Latios. Latios, vieni qua, subitissimo. Articulo. Eh, vabbè. Non mi sembra il nome corretto. Ecco, vedi, Articulo l'ho preso prima, ma non me l'ha dato prima. Eh, vedi, ora l'hai ritrovato e te lo sei pure portato a casa, visto? L'ho pulappato. Volcarona che livello è? Magari me lo prendo, giusto perché non ho una squadra, sapete? Eh, vabbè. Possiamo proseguire e andare avanti. Ma non mi hai dato Articulo. Ragazzi, non mi sta dando Articulo. Eh, Latios, eh. Aspetta, non ho dato il mio computer. Qual è il mio inventario. Ma a me non mi ha dato Articulo non me l'ha dato. Latios. Vabbè, sai cosa faccio? Pokégive. No, non si può. Allora devi dare anche a Marticulo. Latios. Eh, prendetelo. Che vuoi? Io non ho Pokémon, c'ho dieci gatti, praticamente. Guarda, c'ho una squadra che è ridicola. Se ti distruggo con questa squadra, Marci, è da chiudere tutto quanto. Oh, vabbè. Ok. Give Articulo. Va bene, dai. Puoi prenderti anche Articulo, Marci. Però, però io spero che in questi Lucky Block possa andare migliore in situazione. Ok, no, niente. È la quarta volta che trovo Cobalion. La quarta. Ecco, ma che mano? Ce l'avevo già preso prima. Vabbè, prenditelo. Cioè, qual è il problema di catturare un bel mano? Catturato, l'ho ricatturato. Hai fatto bene. Ma Lamar a che livello è sponato? Poteva sponare a un livello bello alto, tipo 80-90, eh. Però, vabbè, niente. Purtroppo, io nulla. Cosa? Un Creeper? No, catturato. Prova a dire un'ultra creatura che ti piace. Eh, Xurkitree. Un altro Moltres. No, era Naganadel. Bello, Naganadel. Bello, 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 è vero. Poi... Ah, ma ho capito. Stai cadendo nel vuoto. Eh sì, se la bocca è nel vuoto non te la dà, Marci. Oh, un altro. Un altro Regigigas, sì. Ho doppione di Regigigas. Vediamo, per favore. Regigigas lo vorrei anch'io, Raiko. Grazie per il tuo Raiko. Me l'ha dato prima, me l'ha dato. Guarda che hai lasciato il Raiko e te l'ho appena catturato io. Dove l'ho perso, scusa? Era lì sulla lane. Ma come ti permetti? Ladro! Non si rubano i Pokémon leggendari. Allora, niente. Qua niente, qua niente. Un Kittree. Cosa? No, che livello è Zagarde? È troppo, è troppo. Cartana. Vabbè, ragazzi, ma Marci è veramente rotto. Ma può trovare un Pokémon leggendario 86? Ci hai provato, eh, clown? Ti ho visto. Allora, però, vabbè, magari se trovassi o Zagarde anche potrei metterlo in squadra, così anche tu lo metteresti e lo eliminiamo entrambi. Potrebbe essere... Ma i Dragon al 73. Mamma, ragazzi, ma Marci che cosa sta trovando? Upa! Vieni qua, subito. Oh, poi, vai. Andiamo, andiamo. Oh, Zagardo, sei il primo che ho trovato. Grazie, me lo lasci. Ti ringrazio per questo regalo incredibile che mi fai. Beh, roba non eccezionale, eh, se posso. Però... Ah, Rizard, mannaggia, pensavo fosse un... Oh, oh, però niente, non lo è. Ultimi Lucky Block, mi sa, prima della nostra sfida finale. Ho trovato un altro leggendario. Io voglio capire se questa corsia qua è devastante o meno. No, non c'è nulla di devastante nella tua corsia. Semplicemente che sei fortunato come pochi esseri umani al mondo. Però, zero ora è forte, eh. Zer... Dark Kray, dai, 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 Dark Kray. No, 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 esci dalla battaglia. Dark Kray, esci da sta battaglia. Guarda che me lo vuoi rubare, guarda che me lo vuoi rubare, guardalo, guarda che vuoi rubare me lo... Ladro, ladro è mio Dark Kray. Ma Dark Kray può morire per colpa di un Pokémon a 17? Senza mosse, secondo me. Non è catturabile. No! Marci! Mi ha preso, secondo te? Oh, tappo Coco. Eh, sì. Ma aggiungiamo alla sfida dei Pokémon leggendari. Melmetal. Prendiamolo. Eh, abbiamo un po' di Pokémon in comune, eh. C'è da dire questo. Quindi bisogna... Uh, Ghiratina all'ultimo! Vediamo qua, magari. Tac, tac, tac. Ecco, no, nulla. Vabbè, andiamo a costruire la nostra squadra, Marci. Sono curioso. Allora, Marci. La mia squadra è composta da... Raikwaza, Ghiratina, Regigigas, Melmetal, Zapdos e Necrozma. Tu hai uno di questi Pokémon, se sì, lanciano in campo. Io ho... Zygarde, Gialga. Ok. Hydreigon. Ok. Moltres. Ok. Cartana, Silvali. Nessuno di questi è uguale all'altro. La mia è veramente naif, vai. Vai, lancia pure. Possiamo iniziare. Tu hai un Pokémon che manco è leggendario ed è già devastante. Vabbè, va bene così, ragazzi. Ghiratina ci saluterà, purtroppo, per noi. Non ho detto. Vabbè, arrivederci, arrivederci, signor Ghiratina. Ora, io per abbattertelo posso utilizzare solo le requase e sperare di essere comunque più veloce, nonostante tu abbia tre livelli in più del mio. E neanche questa cosa qua funziona. Cioè, boh, ragazzi, boh. Io... Mamma mia, ragazzi. Che devo inventarmi? Vabbè, Moltres, vabbè. Va bene. Ok. Guarda, Moltres mi distruggerai quasi perché è anche più veloce. No, vabbè. Non ha senso tutto ciò. Non ha, non ha senso. Non ha veramente logica. Proviamo a paralizzare questo Moltres. Ok, ha colpito? Non ha paralizzato. Tu me lo eliminerai perché mi hai fatto modo. Io non ci voglio credere. Sentite come ride. Come, come, come se la sta godendo in questo momento questa battaglia. Guarda, guarda, eh. Allora, io te la butto lì. Ma se facciamo un change... No, no, no. Noi dobbiamo rimanere fedeli a questa sfida, Marci. Non me ne frega nulla. Un change di Pokémon, intendo. Ah, Silva lì. Vabbè, io... Che devo fare? Che devo... Cosa devi... Eh, sei pure super efficace, è ovvio. Però non fa molto danno. No, tranquillo, sei solo super efficace. Sto facendo tentennare, però. Grazie, mi fai pure tentennare. Oltre ai problemi che già ha la mia squadra, mi fai pure tentennare Necrozma. E tu sicuro mi farai un brutto colpo da adesso? Guarda. No, meno male. Guarda. Meno... Una cosa mi è andata bene. Sono contento così, dai. Ehi, ciao. Eh, non sono più contento. Non sono... Ehi, ciao. Non sono più contento. Ehi, ciao. Ciao, come stai? Regigi Gassè lotta. È un bro. È un bro. È un campione. Eh, sì, è proprio bello. Mi sa che è normale lui, normale cos'è? No, ma non posso dirti nulla. È tutta la tua scelta. Non mi ricordo nulla, ma ti faccio il traggio, dai. Ok, dai. Ha resistito un po'. Mamma, quanto danno che t'ho fatto. Oh, incredibile, eh. Mamma mia. Ah, il mio amico. Beh, il metal. È carino. Eh, il metal invece è metallo. È metallo e basta, se non mi sbaglio, sì. Sicuro che sia solo metallo. Sì, sì, è solo metallo. Solo acciaio, poi, chiaramente. Sì, sì, è acciaio. Vada, vada pure, signor Zeigard, che tanto lei non è a livello 150 milioni. Ok. Sei paralizzato, è bene. Sì, mi sembrava una mossa corretta da farti su un cartano. Oh! Vabbè, vabbè. Not very effective. Possiamo dire, ragazzi, che Marci è... È il tuo ultimo Pokémon, no? Sì, ovviamente, è il tuo ultimo Pokémon. Quindi puoi anche eliminarmelo. Ormai, guarda, è... Ma no, pure di alga, cioè, è ovvio. Io ho quattro ancora. Ah, no, certo, vai, vai. Certo, ovvio. Earth Power. Grazie. Ragazzi, io credo che Marci sia la persona più fortunata del mondo. Io ho questa idea intrinseca. Perché trovare un leggendario all'86 quando sono tutti quanti al 70 è illegale. Però, vabbè, complimenti a Marci. Noi campioncini ci possiamo fermare qua. Voi commentate con l'hashtag sono un campione. Scelete il video qua davanti. Ciao!